Ciao a tutti da S3mart.com, quest'oggi facciamo un rapido unboxing della nuova MSI GTX 950 Gaming 2G scheda video di fascia medio-bassa che ha 2GB di RAM, standard PCIe 3.0 e presenta un leggero percocchi di fabbrica. Partiamo come sempre dall'analisi della confezione che come possiamo vedere è la tipica MSI con il dragone rosso, abbiamo il logo del MSI, abbiamo il logo Gaming G-Series che contraddistingue le schede grafiche MSI da gaming, il nome del prodotto e il nome della serie. Durando la confezione invece abbiamo delle ditascherie molto esplicative su alcune caratteristiche del prodotto come la dotazione delle torx fan delle ventole particolari che caratterizzano il dissipatore TwinFrozer 5, abbiamo un sistema di raffreddamento basato su heat pipes e abbiamo inoltre la tecnologia semi-funless di MSI dove le due ventole funzionano in modo indipendente l'una dall'altra quindi è possibile avere una ventola ferma mentre l'altra in funzione. Abbiamo inoltre l'app dedicata di MSI alla gestione della scheda video. Più in basso abbiamo le caratteristiche del prodotto, i requisiti di sistema minimi per installare questo prodotto nel nostro PC e a destra, a fianco ai requisiti minimi abbiamo inoltre le specifiche del prodotto. Avendo la confezione andremo a vedere il bundle che accompagna questo prodotto che è contenuto in questa confezione. Allora vediamo cosa abbiamo. Abbiamo un adattatore VGA DVI, inoltre abbiamo il CD per l'installazione di driver e un manuale di installazione rapida MSI. Adesso vediamo la scheda video. Eccola le tipiche colorazioni MSI Gaming. Abbiamo due grandi ventole che raffreddano il radiatore in alluminio sottostante che è attraversato da diverse heatpipes. Queste ventole hanno un diametro di 90 mm quindi 9 cm quindi sono davvero molto grandi per essere una scheda di fascia medio-bassa. Sono le Torx Fan che, quanto detto dall'azienda, dovrebbero ridurre le turbolenze e di conseguenza il rumore emesso dalla scheda in funzione e sono dotate di una tecnologia semi-fanless. Quindi quando ci sarà poco carico per la scheda video, questi ventole saranno ferme. La parte superiore invece cosa abbiamo? Abbiamo il logo MSI che si illumina in quanto è dotato di un LED ma può essere anche spento o può essere cambiata la modalità di funzionamento, quindi lampeggiante, fisso o spento. Abbiamo questa heatpipes che sono due e questa superiore e una inferiore che vedremo successivamente. Abbiamo il connettore di alimentazione dai 6 pin. Adesso vediamo quanto misura questa heatpipes. Dovrebbe essere da 6 mm. Nella parte posteriore invece cosa troviamo? Troviamo alcuni chip RAM targati Samsung, come quasi tutte le GTX della serie 900. Abbiamo le quattro vite che assicurano il dissipatore al PCB che presentano il bollino di garanzia, quindi non potremo cambiare pasta termica o installare un waterblock sulla scheda senza perdere la garanzia. Inoltre notiamo l'assenza di un backplate ma notiamo il bellissimo PCB in colorazione nero opaca. Nella parte inferiore invece abbiamo il proseguimento dell'heat pipe che troviamo anche nella parte superiore e dell'altra heatpipe che invece viene fuori dal dissipatore solo nella parte inferiore. quindi per questo possiamo far vedere, ah ok, le uscite video, ne stavo dimenticando, togliamo le protezioni, l'antipolvere. Allora abbiamo lo standard ormai per queste schede video, abbiamo un'uscita DVI, 3 display port e un HDMI 2.0. Parliamo anche brevemente delle specifiche tecniche di questo prodotto in quanto è una versione per colcata di fabbrica. Infatti abbiamo quindi il modello GTX 950, abbiamo memorie GDR5 da 2 GB, una interfaccia di memoria di 128 bit, cioè un boost di 128 bit, una velocità, una frequenza del core di 1317 MHz in boost clock in notch in mode e 1127 MHz in base clock sempre in notch in mode. Questa impostazione però deve essere stabilita dall'app gaming di MSI, altrimenti la scheda opererà in queste altre frequenze che sono 1279 MHz e 1102 MHz rispettivamente per boost e per base clock. Inoltre c'è anche un'altra funzione silent mode che invece abbassa le frequenze e sono di 1190 MHz e 1026 MHz sempre rispettivamente in boost e in base clock, mentre la velocità delle memorie varia da 6650 MHz in OC mode e 6610 in gaming mode. Per il resto abbiamo già detto tutto, abbiamo fatto dire tutto, quindi per questo video unboxing è davvero tutto. Vi rimandiamo alla recensione iscritta per vedere come questa scheda video si comporta in gaming e nei vari benchmark. Quindi dallo staff di StreamArdu un saluto e al prossimo video unboxing. Ciao! Ciao!